Condivide l'iniziativa di Salvini sulla schedatura di Roma con tanto di frasi, quelli italiani ce li dobbiamo tenere? Guardi, mi fa piacere che Salvini poi abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura, perché se una cosa non è costituzionale non la si può fare. Dico anche che io sono al lavoro in questi ministeri da circa due settimane per pensare al lavoro degli italiani, alla povertà degli italiani e ai problemi degli italiani, che sono enormi e di cui ci dobbiamo occupare, perché gli italiani hanno la priorità. Va bene occuparsi di tutti i problemi legati all'immigrazione, ma mettiamoci al lavoro su un grande problema che riguarda anche milioni di italiani, che è quello che non riescono neanche più a mangiare. Ma su quegli italiani ce li dobbiamo tenere? Mi fa piacere che abbia rettificato, perché su questo io non credo assolutamente che ci fosse un'ipotesi di costituzionalità di quella idea. Grazie.